Sono molto contento oggi, bellissima giornata, vincere il derby con la gradinata che era spettacolare. Siamo tutti contenti e lo meritiamo. L'importante è iniziare bene, è stata questa questa confusione in aria, poi l'ha recuperato Fabio Cagliarella, me l'ha messo una palla perfetta, io l'ho attaccata la palla a cattivo e ho fatto il gol, contento. Poi abbiamo gestito bene la partita, meritiamo questi tre punti e questo derby. Io sono andato, Fabio ancora mi ha dato una bella palla, io ero tranquillo che c'era Rosso più rigore perché l'ho visto, il braccio era staccato e io andavo in porta, quindi poi è stato bravo Fabio a fare il gol e poi abbiamo gestito bene, anche se il Genoa anche a 10 ci hanno fatto un po' soffrire alla fine, però siamo stati bravi a non prendere il gol. Sono molto contento, io mi trovo molto bene qua con la squadra, con il mister, grazie anche ai ragazzi mi mettono in condizione per fare bene. Io lo sapevo, do sempre il massimo, poi ho avuto un po' di stanchezza al girone di andata, ero tranquillo, mi sono rimesso a posto, adesso sto molto meglio e spero di segnare ancora qualche gol. Abbiamo avuto due o tre parti molto difficili adesso, non so, è normale, poteva forse fare un po' meglio, però siamo ancora in corsa, come l'hai detto tu, sono pochi punti, quindi noi dobbiamo giocare come oggi, dobbiamo dare il massimo per sognare di andare il più su possibile.